Episodio 20 Certo Io l'avrei chiamata Ultima Zona, Boss Finale Sono arrabbiato Dunque Ah, peccato Io volevo Ecco qua Dicevo, volevo saltare oltre Per tagliare Certo, come al solito Se voi fate una combo Non si può interrompere Se la faccio io, è un attimo Crash un capitale e sconfiggi tutti i nemici Prima del tempo scada Beh, lo Scorpio Gorilla sicuramente È un'ottima scelta Prendilo Eccoli là Dai, forza Prima Spostiamoci Ecco qua Dai Adesso ne appaiono altri Ma porca di quella miseria Ecco qua Vi sta bene Vai a prendere il frutto Prendilo Prendilo, prendilo Prendilo Ecco fatto Tutti e due Ottimo Ecco fatto Così abbiamo già ricaricato L'attacco Appena ne appaiono Ecco qua Altri, dicevo Lo utilizziamo subito Vai Vai, 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 vai Madonna mia Che combo Ti prego Dimmi che erano 25 Ah Peccato Fatto Vitto Vittoria Questo qua Devo essere sincero È stato Il portale più semplice Di quelli che abbiamo fatto In realtà Il più semplice Semplice Se devo metterlo Proprio A livello Di difficoltà Era quello di distruggere Le bombe Però diciamo che questo Alla fine Sapendo che spuntavano Tutti quei In quelle zone lì Ti mettevi già lì Colpivi Facevi Non c'è Peccato Non abbiamo avuto Troppe difficoltà qui Più che altro Quello delle bombe Alla fine C'avevi sempre qualcuno Che ti disturbava Diventava difficile Riuscire A sopravvivere Diciamo Ecco fatto Grazie E proseguiamo Avanziamo Per fortuna L'abbiamo già fatto Ce lo siamo già levati Dalle scatole E via Proseguiamo Allora Ok Sto dicendo Ma Non c'è nessun altro Che deve apparire Vieni qua Non ho voglia di Non cadi Eh Certo Ok Qua potrei Esatto Essermi messo In difficoltà Prendilo 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 Scappa Ecco fatto Vai E Scambiamocelo Dunque Via ste ragazzine Del cacchio Non so Non so dove Stava puntando Ma sinceramente Mi frega Anche relativamente Poco Arrivato a questo punto Cos'è Cosa c'è qua Ah è per due Mallevate Madone Non è soddisfacente Proprio Tirare gli staccodata Incredibile E lanciarle via Nella stratosfera Allora dammi un secondo Perfetto Ecco qua Avanziamo Mi chiedo Chi sarà il nostro compagno In questa battaglia Come ho detto Purtroppo Io Non sono mai Arrivato A fine del gioco Sinceramente Dovrei andare A ricontrollare Il mio salvataggio Sulla PS2 Per vedere Per esempio Dove che mi ero fermato Ma mi ero fermato Molto indietro Credo che L'ultimo livello Che abbiamo fatto Che ho fatto Quando ero bambino Era il livello Quando appaia Appare Per la prima volta La puzzola Quella che Spara Credo fosse Quello Il mio ultimo livello Madonna mia Quanto è bello Lanciarle via Allora Aspetta un attimo Attacco rotante Qua Vai Non so Come ho fatto A evitare il colpo E sinceramente Mi va bene così Abito di marmocchie Sbloccato Allora Aspetta Ecco qua Mallevate Volata via Ok Tutti i cessi Sono già lì Mi hanno fatto Un favore Proprio A mettermeli Tutti quanti Qua Aia Non so Devo prenderlo Forse Sai che mi sa Che si Perché per un attimo Ho pensato che Avrei dovuto Prendere Il Pipistrello C'era solo lui Messo qui Poteva essere Una scelta Effettivamente Però lo scorpio Rilla Preferisco Non abbandonarlo Al momento Dentro la bocca Vabbè Non c'era neanche Pericolo Anzi In realtà Credo che Il Il Pipistrello Fosse stato messo Lì Proprio Per Per te Se l'avessi Tipo Perso No 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 Che fai Ok Aspetta Vai E cambiamocelo Ma giusto Per sicurezza Non c'era Motivo Di Cambiarlo Però Giustamente Avanziamo Non è che ce n'è Ci sono altre Esatto Giusto Per sicurezza Controlliamo Ancora una volta Ah ecco Vedi Obiettivo Completato Distruttore Di scagnozzi Spero Più che altro Di riuscire a fare Quello delle combo Vorrei sempre sapere Quante A terra E picchia Vorrei sempre sapere Quante sono le combo Ma Il gioco Non ce lo dice Non ce lo vuole Ci Ci mente E il gobierno Te mente Gesù Però Alla fine Eccoci arrivati Danina Con sto TKS Da gorilla Secondo me Ci muore il gorilla Sicuro Ci muore subito Crash Scendo il mio robot È il mio corpo E me lo gestisco io Sai che stai per prenderle Signorina Crash Vieni qui E fargliela vedere A questa ingrata Di mia nipote Giusto così Crash Suonagliela E poi andiamo a mangiarci Le frittelle Con lo sciroppo Di ciliegie Yuhuuu Dirigi il robot Verso l'isola Vubba Sì Nina E tu stai zitta La tua voce Mi disturba E basta parlare Di frittelle Gli mette il casco Non volevo farlo io Questo dannato lavoro Avrei preferito Che fosse uno Dei miei stupidi Tirapiedi A distruggerti Non volevo certo Riempirmi tutti I vestiti di pe Ma per far Veramente bene Questo lavoretto Ecco il corpo Da rando di gatti E la madonna Ci siamo impegnati Nina Più che altro Non so cosa devo fare Non posso pelle Contro Crash Non posso Eh lo sapevo Allora Calmo Vai Switcha E colpisci L'ho giusto Con lo scotch Per fortuna Che stanniamo No Merda Vai Che palle No Dai Era troppo lontano Ok No 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 Vai Sbrigati Ecco fatto Ok dobbiamo rompere Gli ingranaggi Bello Bello però Il robot ragno Bello Il colpo lontano Figo Allora Ma Mallevati Distrutto No Lo sapevo che era A fase Sapevo che dovevo lasciare uno scorpio rilla vivo Aia Dai Ero in volo Non mi ha colpito Porca puttana E qua ero in mezzo ai due fuochi in realtà Vai No 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 Crash Crash muoviti Ok 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 Qualcuno si è potenziato Ok Qua è stata colpa mia Però in realtà Con la rotolata Ce la siamo cavata Incredibilmente bene Ancora Dai Ma guardalo che sta morendo Già quello Vai Sali subito su Tornate al lavoro Schiavi parassiti Disgustosi E quando mai Cambio Cambio Allora Questa è stata ingiusta Vai No 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 Sali subito Ok Andata Scappiamo Dagli Gorilloni Va bene Va bene Va bene Ci abbia Questa è stata ingiusta Me l'ha ucciso Esattamente un istante prima Che riuscissi a prenderlo Salvate il robot Tutte le mie perpidie Saranno state vane Smettete di aiutarlo Sei noioso come la scuola Mi ha fatto scivolare la spina dorsale Aspetta Vai 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 Cambio Dai che ce la facciamo Merda Dai Non ce la posso fare Se sei a piedi Non ce la fai Non è un'azione Ce l'avevamo fatta Con questo qua Rotolante Se non era per Per la stupida scimmia Ce l'avevamo fatta Maledizione Sai cosa Ecco qua Facciamocela Guarda Facciamola effettivamente Come il gioco vorrebbe Che ce la facciamo Dai Cambia forma Vai E io cambio forma Immediatamente E io invece ti do Una scimmia in faccia Voglio vedere C'ha per caso un colpo No Voglio vedere se aveva un colpo A distanza Ma stai zitta Perché non lo colpisce Forse devo colpirlo Solo col triangolo Ok Calmi tutti Un attimo Ecco qua Ancora Basta Perché mi riaccazzo Crash Vi volete occuparmi Questo dizio Oh E finalmente è andato Ma stai zitta Nina Vai 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 Ovviamente Vai 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 Ok aspetta 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 No 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 È morto Ovviamente Resta lì Resta lì Ok Questo non è stata voluta Scusa Sono fatta così Questa non Me la sono meritata Perché effettivamente Me la sono un attimo cercata Qua Vieni 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 prendilo Credi di essere davvero bravo Vero Crash Va Prova questo Ecco qua Eh no È di già Crash E io ti tiro I marrovesci Continuamente Così ti stanno No 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 Crash Chi se ne frega Dell'animazione Rallentata Devi catturare questo Non quello Cretino Va bene Ecco qua Vai sbrigati Sbrigati Prima che Cerchino di fermarci Vai colpisci Anche quello Ecco fatto Ormai È andata Ma c'è ancora Un ingranaggio No Perfetto Kabum Ma come hai fatto A liberarti Dai Ce l'hai fatta Crash Grazie Fratellone Oh che schifo Prendetevi una stanza Ma ora Dobbiamo fermare Lo sterminatore Prima che distrugga L'isola Vumpa Pensate davvero Che sia così facile Disattivare Lo sterminatore Beh io ci metterei Un attimo Se avessi il mio Trasbutteratore Quelcosa viola Ah no Pensavo lo vomitasse fuori Ma da quant'è Che lo teni nascosto Nei pantaloni Eh certo No e dai È ancora lì lui A parte che a me Sembrava molto più Grande di così Però Sembrava Duemila volte Più enorme Perché mi hai salvata Ti ho tradito Ti ha sottratto Il tuo piano malvagio Beh fai parte Della famiglia Oh Nina Tradirmi è stata La cosa più perfida E vile Che potessi mai fare Sei stata un'arpia Oh sono così orgoglioso Lo sapevo che diceva Una roba del genere Prometto Sarò ancora più cattivo Più meschino Più perfido Perfido Megamind Comunque Una bella sculacciata Non te la toglie nessuno No Finalmente Quando tutto è finito Bravo Crunch Certo che il commento Più bello Che puzzi di pancetta È incredibile Ma la nostra roba È salva Ora a casa A mangiare le frittelle Frittelle Crash ha parlato È la cosa più incredibile Di tutto Di tutto l'episodio Questa è stata La cosa più incredibile Crash ha parlato E sarò onesto Ok era fattibile Un po' Un po' difficile Perché c'era poca gente Ma fattibile Comunque Come boss finale Non ho avuto grandi difficoltà Ho avuto più difficoltà Con Uka Uka Punto Uka Uka è stato davvero ingiusto Perché sparava continuamente I pippottini che usavamo Era una merda Questa bene o male Avevi lo Scorpio Rilla Era molto più fattibile Potenziamento attacco E basta Non siamo neanche riusciti Ad arrivare alla fine Mi sa Abito da marmocchia Lo spider bot Sbloccato E L'abito da Scorpio Rilla Gioco completato All'81% Filmato finale Ah no Così Fine Che tristezza Cioè l'ultima cosa Che ci manca In realtà È il potenziamento Della scivolata E tre potenziamenti In realtà Non è neanche tantissimo È che ci manca Replay casuale Cioè mi fai un livello A caso Perché tanto Vabbè Signori È stato Sinceramente Un bel viaggio Nel passato Un viaggio Che avevo già iniziato Fino a un certo punto Come avevo già detto Ma che non ho mai avuto Effettivamente Modo di completare Con questo Mi sento finalmente Di aver completato Un gioco Che la gente aveva Non tanto Credito di Crash Ma che A rivederlo oggi Secondo me Comunque Aveva il suo perché Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo A una prossima serie Ciao a tutti Noi ci vediamo